Bergamo la vittoria era interamente lì. Ma lasciamo ancora più forti. Consapevoli. Con più certezze anche con la rosa estesa, chiunque sia entrato ha dato segnale. Da Muriel a Pasa la Olmebacca. Gian Piero Gasperini, è soddisfatto la performance Atalanta. Piuttosto che il quarto foglio pulito di fila totale in totale otto partite tra il campionato e l'Europa. Ligue francamente avrei preferito un 21 o anche 54 l'allenatore Nerazzurri sorride. Giochiamo con un unico obiettivo. Accendio sui cambiamenti di corsa ho bisogno di risposte da quelle della panchina. Perché se mi danno diventiamo più forti e più competitivi. Un po' amaro amaro nella bocca Gasperini, lo dice il rimpianto di aver perso i tre punti, è per il grande. Salto in classifica che avremmo fatto. Contro un buon Juventus. Non riuscire a fare del meglio si è adattato per raccogliere il minimo. Abbiamo giocato bene l'analisi dei microfoni Sky Sport, eravamo una squadra solida e stata in grado. Di creare le sue opportunità. Recupiamo Scamacca si unisce al gruppo domani in questo tipo giochi. Diventa decisivo alzare la testa da ballo davanti agli avversari chiusi. Su Muriel. De Ketelaere e Bakker sulle individui. L'ode per molti Muriel ha il punto di partenza e mirato all'uomo oltre ad avere un tiro importante. Se è così. È un'arma extra. De Ketelaere ha fatto bene. Era in dubbio fino a ieri e ieri invece è stato una cosa banale. Bakker ha anche fatto molto bene nonostante sia entrato nella finale. La fine dell'ultimo trittico su due fronti prima che la nuova fermata si avvicini tra giovedì e Domenica successiva siamo bene e non abbiamo mai trovato sforzi mentre giocando sempre allo stesso. Modo. Ci mancano Sporting Lisbona e Lazio. Psicologicamente stiamo crescendo. Aggiunge Gasperini. La classifica. L'Europa è sempre un'opportunità di crescita dobbiamo recuperare le energie in 4 giorni. Se mostriamo questa condizione è difficile per tutti.